Weston MC Kenney sta causando molti problemi alla Juventus. Questo perché l'americano ha rifiutato di andare all'Aston Villa nell'affare che avrebbe portato Douglas Luish alla Juventus. Quindi la possibilità dell'Aston Villa è stata completamente scartata, ma il futuro di MC Kenney resta ancora lontano dalla Juventus. Secondo il portale nordamericano ProSocherWire, il Cincinnati FC ha presentato alla diritto della Juventus un'offerta di 15 milioni di euro per l'acquisto di MC Kenney. La Juventus ha accettato immediatamente, tuttavia tutto dipenderà ancora una volta da MC Kenney. MC Kenney non ha ancora deciso se lasciare il calcio europeo per tornare negli Stati Uniti. Credo che ancora una volta rifiuterà, perché sa di avere ancora molto mercato qui in Europa. La Juventus ha accettato immediatamente, tuttavia anche un'offerta di un'offerta di un'offerta di un'offerta di un'offerta di un'offerta di un'offerta.